E' sotto pressione per influenza e covid il reparto di rianimazione del Policlinico Universitari di Germaneto a Catanzaro. Diversi ricoveri nelle ultime 48 ore e proveniente da tanti centri della Calabria. Si tratta di pazienti affetti da forme gravi di insufficienza respiratoria acuta, secondaria al virus dell'influenza, che sta raggiungendo in queste ore il suo picco. Quasi tutti i pazienti sono molto giovani, alcuni sono in condizioni anche gravi, a tal punto di richiedere l'utilizzo della circolazione extracorporea, detto in gergo sanitario ECMO. La rianimazione del Policlinico è centro di riferimento regionale per l'ECMO stesso e il trattamento della grave insufficienza respiratoria acuta. Attualmente i pazienti sottoposti ad ECMO sono ben 5 di cui 4 affetti da polmonite grave ed uno affetto da una grave forma di insufficienza cardiaca che ha richiesto il supporto ECMO in una configurazione venoarteriosa. Allo stato attuale la rianimazione generale è satura, mentre è occupata al 70% la rianimazione covid-19.